Poi sera, se ne ho finita via in tira, solo tre per entrare, i primi tre entra e altri spettacoli. Ma vera, viene dentro questo punto del carico, è tipo una pantone dell'ignore, il tram è sola, e poi le mappi smontano, e poi la scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la scuola. E solo la borsa sta a rascettare, e poi i tram e tirarlo. E poi le mappe insiste, la borsa, le mappe insiste, la borsa, le mappe insiste, la borsa, ha deciso alla porta e mi vado dentro e puliva. Le mappe e doveva pensare, pulivo cesso, tutto in età. Perfetto, pulito, per casa mia. In età, non è possibile, se non sbaglio, e torno dopo due ore e mi vado a pulire, un ret attimo.